Credo la risurrezione della carne è l'argomento trattato dal Papa nella Catechesi dell'Udienza Generale. Papa Francesco ha notato che in tutta la scrittura c'è un cammino verso la fede piena nella risurrezione dei morti ed è la risurrezione di Cristo l'anticipazione di quanto accadrà alla fine dei tempi. Però, ha aggiunto il Papa, sia vero che Gesù ci risusciterà alla fine dei tempi, è anche vero che per un certo aspetto con Lui già siamo risuscitati. Per questo anche il corpo di ciascuno di noi è risonanza di eternità, quindi va sempre rispettato e soprattutto va rispettata e amata la vita di quanti soffrono perché sentano la vicinanza del Regno di Dio, di quella condizione di vita eterna verso la quale camminiamo. L'Udienza Generale si è svolta in Piazza San Pietro ed erano molte decine di migliaia i fedeli presenti. Il Papa ha anche rivolto un appello per le monache del monastero greco ortodosso di Santa Tereclam a Lula in Siria che due giorni fa sono state portate via con la forza da uomini armati. Preghiamo, ha detto, per queste sorelle e per tutte le persone sequestrate a causa del conflitto in corso. Continuiamo a pregare e ad operare insieme per la pace.